Questa puntata è offerta da Ottica, FBL, Fabalalec, e sai cosa vedi? Vedere o non vedere? Questo è il problema. Infatti nel mondo ci sono milioni di persone che hanno problemi di vista, ma quelli che state per vedere ora neanche lo sanno. Questa puntata è un problema. 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 Bene cari amici di YouTube Discovery, ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e venite a dire la vostra sul nostro gruppo Facebook. Ciao!